buongiorno a tutti e ben trovati alla cucina del cuore oggi video ricetta dedicata alla festa della mamma quindi tanti auguri a tutte le mamme del mondo specialmente alla mia e faremo una charlotte alla fine mi sono pensata di farla charlotte poi vedrete nel video perché con il mio solito pan di spagna e una farcitura alla stracciatella e fragola vi rimando subito agli ingredienti che ci servono per realizzare questa deliziosa charlotte stracciatella e fragola gli ingredienti ricordatevi che li trovate sempre anche tutti iscritti per intero nell'info box per realizzare la nostra torta avremo bisogno di 250 grammi di formaggio quark e se non lo trovate potete utilizzare la ricotta vi ricordo che lo trovate al lidl in italia si trova pure estratto di vaniglia 340 grammi di philadelphia 400 ml di panna non zuccherata 80 grammi di zucchero semolato 40 grammi di zucchero a velo 5 cucchiaini di sana a parte che sarebbe una sorta di addensante per la panna visto che qua in germania la panna è più liquida 500 grammi di fragole che ho tagliato a pezzettini ma sei lasciatele da parte e 100 grammi di cioccolato fondente se non trovate la panna non zuccherata eliminate i 40 grammi di zucchero a velo un cucchiaino di succo di limone e ci servirà ancora il pan di spagna io mi sono portata avanti perché l'ho fatto già lo trovate già sul mio canale sulla playlist ricette base ed è questo il pan di spagna da 26 centimetri iniziamo prendendo un pentolino e andiamo a mettere la metà delle fragole dentro mi sono dimenticata di dire una cosa 6 grammi di gelatina in fogli aggiungiamo 80 grammi di zucchero e attiviamo la fiamma a fiamma media e lasciamo sovbollire il tutto nel frattempo iniziamo a montare la panna e per non fare casino io faccio così metto un po di pellicola trasparente sopra quando inizierà a montare aggiungiamo 4 cucchiaini di addensate per la panna sempre ripeto per chi vive in germania utilizzate la panna oplà non c'è bisogno e continua a fare montare la panna ecco la consistenza che dovete ottenere deve essere semi montata fate cuocere così un paio di minuti le fragole dopodiché spegnete la fiamma strizzate la gelatina in fogli la inserite dentro inserite anche il succo di limone e un goccino di estratto di vaniglia così e riducete tutto in purè lasciatela un pochettino da parte e inserite il resto delle fragole mettete tutto su un'altra ciotolina e fate in modo che si raffreddi andiamo a preparare il resto della crema come prendiamo tutto il formaggio quark o ricotta quello che utilizzate non vi preoccupate se sto usando una marisa la marisa fatta di fragole perché la crema diventerà alle fragole la fila delfia le cucchiaini di addensante per panna lo zucchero a velo e andiamo a miscelare il tutto e vado ad aggiungere per prima cosa la gelatina di fragole e andiamo a mescolare tutto adesso pian piano andiamo ad aggiungere pure la panna due tranche e mescoliamo dal basso verso l'alto la restante panna aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e questa è la nostra crema di fragola alla straggiatela io ho lasciato un paio di gocce di cioccolato se gocce si possono chiamare perché non mi viene il termine ragazzi aiutatemi la parte non le ho inserite tutte e adesso vado a fare il mio cerchio ad una misura di 26 centimetri e inizierò a conforre la torta andiamo a riprendere il nostro pallispagna lo mettiamo dentro e stringiamo il nostro anello la misura che desideriamo e adesso riprendiamo la nostra gelatina che ancora è tepida ma se si dovesse solidificare andate a metterlo un secondo al microonde non più di un secondo e quindi andiamo a spargere un po' sulla base del nostro pan di spagna voglio proprio che si senta il gusto della fragola su questo pan di spagna ce ne lasciamo un po' per quello di sopra fatto questo e inserite la crema nella vostra torta e poi andate ad allisciare la superficie con una paletta e procediamo così fino a finire tutti i componenti della nostra torta adesso non ci resta che andare a coprire la nostra torta copriamola perché per non fare prendere gli altri sapori che abbiamo in frigo e mettere in una ciotola più piccolina anche la crema rimanente che poi ci servirà per la decorazione e la andiamo a riporre in frigo per un minimo di 4 ore così che diventi bella solida ci vediamo dopo, vi faccio vedere come viene ed eccoci qua abbiamo preso la nostra torta dal frigo andiamo a togliere, a staccare dai porti e poi facciamo due volte quest'operazione per evitare che ci sfuga qualcosa e poi allarghiamo così e questo è il risultato adesso andiamo a spalmarci sopra prima nei laterali così aiutandoci con un tarocco o con un coltellino andiamo a rifinire la nostra torta adesso mettiamo un pochino di clema sopra per andare a lasciare la superficie ripuliamo tutti i bordi adesso con l'aiuto di un'altra paletta più lunga anzi no con l'aiuto del mio righello vado a segnare 12 pezzi quindi prima a metà poi faccio la croce nell'altra metà poi divido i pezzetti in tre un coltello tagliamo le fragole a metà e le lascio col ciuffetto ragazzi e le vado a inserire su ogni parte così si ha super giù l'alentamento di dove andare con la torta dopodiché andiamo a mettere tre gocce di cioccolato sopra adesso ragazzi facciamo un'altra cosa che mi è venuta l'idea per ultimo mi sono ritrovata un nastino rosso che lo voglio mettere e andremo a mettere i biscotti sacoiati sopra a mo' di giro tipo la charlotte tagliamoci tutti i biscotti e li mettiamo a mo' di giro torte un po' più alti della torte in sé e proseguiamo così che va a finire tutta la torta adesso non ci resta che andare a mettere il nostro nastro rosso ci sta per la festa della mamma no? e vado a fare il fiocco ed ecco qui la nostra charlotte buona festa della mamma a tutti io non farò la provassaggio perché la rega questa torta la porterò ad una festa a scuola di Vincenzo spero che questa videoricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta iscrivetevi al canale lasciate un bel like e alla prossima videoricetta della cucina del cuore ciao ciao